Sì, è così. Sì, è così. Sì, è così. Si sta sogliendo il gerato. Possiamo iniziare adesso per favore per la bambina. Facciamo la votazione. Sì, è stato la votazione. È stato annorato, quindi dobbiamo ritirlo. Allora, per il caffettino, no? No, 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 niente per te, ma questa volta niente così felice, d'accordo? Faremo tutto alla nuova persona, non voglio essere affidato per il parco. Sì, è stato la parola. Tutti qui mi chiamo a favore che la mia candidatura... Sì! ...e la mia candidatura al centro di Robert Alsenato, dicono sì! 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 Crobi... Dov'è la chi? La chi? La chi? Vieni, vieni, mano. Non le prendi? No.